Il bonus mamme disoccupate 2023 è il contributo riservato alle madri disoccupate o non lavoratrici con un figlio nato da non più di sei mesi, adottato in affidamento predottivo fino ai sei anni oppure di ragazzi fino ai 18 anni in caso di adozione o affidamenti internazionali. È una misura di sostegno al reddito concessa dai comuni ma erogata dall'Inps con un reddito ISEE inferiore a 19.185,13 euro. Il bonus richiesto tramite i CAF viene erogato per cinque mesi per un totale di 1917,30 euro. Il bonus richiesto tramite i CAF viene erogato per cinque mesi per un totale di 19.185,13 euro.